Si parla forse troppo poco di anima che è inscindibile dal corpo e quando un medico si deve prendere cura di un paziente deve considerarlo un tutto unico. Così in questa ottica noi abbiamo organizzato negli ultimi cinque anni una serie di convegni in cui abbiamo discusso prima le diete che in più possono portare ad una prevenzione delle malattie cardiovascolari che come si sa costituiscono circa il 50% della mortalità generale e hanno un grossissimo peso anche in termini di invalidità. Questa volta abbiamo noi come Alt Associazione Lotta alla Trombosi coinvolto l'Accademia dell'Agricoltura perché vogliamo risalire dalle diete agli alimenti. Si parla forse fin troppo di diete, c'è un'inflazione, un labirinto dietetico in cui forse le persone si muovono poco a loro agio. Il maestro Pino Modugno che oltre che essere un eccellente, eccezionale pianista e anche un grandissimo illustratore sa spiegare, sa far entrare nel mondo della musica classica che è ostico per molti il maestro Pino Modugno ha voluto ispirarsi alla nostra filosofia dicendo ci sono gli ingredienti anche nei più famosi pezzi musicali e gli ingredienti sono la musica popolare. Vediamo come i grandi artisti, i grandi compositori per pianoforte della storia della musica hanno attinto alle radici della musica popolare così come noi attingiamo alla cucina popolare per creare i loro capolavori.